forza, oltrepassiamo la porta dell'armadillo coraggio, entriamo, amici allora, dove arriva il fiume? quanto può saltare in alto una montagna? ma una montagna può saltare ehi, amici, facciamo una tournée al polo nord boh, lì, fa freddo, geleremo ah, sento già i brividi io comunque ho un bel cappotto Tasty, mi hai dato un'idea? sì, anche a me allora, che cosa si fa? beh, possiamo riscaldarci con il ballo delle civette ora dobbiamo aiutare quello sciocco re, John DePool a ritrovare la sua corona ed anche in fretta tu riesci a vedere la corona? giusto, è vicino all'estalena grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.